Buongiorno a tutti, sono Luigi O'Naraco, se preferite benvenuti a questo nuovo video. Oggi andremo a vedere il stage a 20 stamina e il 20 di Heroes vs. Hells. A differenza del presente video, questo sarà fatto espressamente per coloro che sono nel JAP. Lo faccio perché attualmente nel JAP la strategia per vincerlo è molto diversa, molto più semplice e senza alcun ritegno. Quindi andiamo a crearci un team come Dio comanda. Allora con doppio Gogeta lo stage è finito, cioè non dovete neanche iniziarlo scialli scialli, vittoria facile. Naturalmente non tutti hanno doppio Gogeta, nel caso non abbiate doppio Gogeta andiamo comunque di un team più o meno di stessa forza, direi. Andiamo con Gohan LR, Gohan Super Saiyan 3 per linkare, Gohan Super Saiyan 2 per linkare. Poi, voglio capire se è un bug o no, lui sempre per linkare. E i soliti 2GL per il fatto di bloccare. Ah, capita. Ok, ok, non era un bug. Ok, ok, no. Avevo un dia perché mi uscivano sempre che erano buggati, buggati, ma in realtà non è che sono buggati. Buggati è che dovete mettere per forza, per forza uno risvegliato. Poi l'ultimo può essere chi cavolo volete, però deve esserci almeno un risvegliato. Allora andiamo di Gohan Super Saiyan 3, freghiamoci. Eh, scusa, di... Per giù Super Saiyan 3. Allora, cosa dire? Semplice, molto semplice come evento, a differenza di quelli che lo fanno nel Global, nel JAP e una passeggiata all'aria fresca. Ho già provato anche gli Stage 21, 22, 23, di cui vedrete video guide. Poi del JAP, non preoccupatevi, ma sono davvero semplici. Il fatto di poter usare Gogeta stravolge completamente la difficoltà del livello. A differenza dell'altro di Os versus Els, in cui la mancanza di Gogeta si sentiva e si sentiva parecchio. Qua è tranquillo, senza problemi, senza pazzie. Non sentirete praticamente i nemici arrivare. Utilizzeremo comunque le precauzioni del caso nella fase 1, che in questo caso è più pericolosa della fase 2, vi ricordo. La fase 1, nel Global, è quella più tranquilla. Nel JAP la repito più pericolosa, perché la fase 2 dovreste bisottarlo il boss, se avete un Gogeta. La fase 1... Fase 1, attenzione al round 1. Quindi un Ray Alma ci scappa, secondo me. E poi si sciottano. Poi, non neanche a dirlo, pian pianino si sciottano tutti. Senza troppi problemi. Cosa altro posso dire? Attenzione al Maging Vegeta. Uscirà un'analisi del PG. Vi dico subito che molto probabilmente Broly ha perso il suo secondo posto come carta più forte del gioco. E Maging Vegeta potrebbe entrare nella top 10, magari proprio a quel secondo posto. Non è il momento di fare un altro top 10, la farò... La seconda top 10 del JAP probabilmente... La farò a... Siamo ad aprile, maggio, giugno. Giugno barra luglio. No, la faccio per l'anno e mezzo. Con le carte che scondono l'anno e mezzo. Sono state inoltre, e si leccate, due carte che stanno per uscire. Il Gohan è un altro che fa danni a tutti. Naturalmente li fa molto bassi rispetto agli altri, però buono anche lui nel torneo. Il Trunks non l'ho visto. Penso saranno pullabili e buona. Comunque iniziamo. Allora, io comunque al primo turno lancerò il Yanma. Perché lo lancio? Non ho la fiducia che nonostante il team sia così grosso, non avendo Goget al turno 1, di shottare. Di andare là e shottare senza problemi e senza preoccupazioni. Non ho la fiducia, non voglio essere shottato, uno di Yanma lo uso. Non userò il Ghost Asher probabilmente, andrò di dende dopo e di senso. Vediamo un pochino ora come comportarci. Perché sono dei colori abbastanza di merda, se devo essere sincero. Queste sono dei colorazioni abbastanza pessime. Va bene. Ammazziamo Tarles a sto punto, direi. Per fargli ammazzare Tarles. Sto prossimo turno con Goget al lancio la speccia stuccando le dita. O nel caso di un Bast. Sì, la prendo molto shalla la battaglia qua, molto tranquilla. Come difficoltà si è abbassata enormemente. Se lanciavi la special, lo Yanma aveva senso di esistere. Facendomi questi attacchini qua mi fai dire che ho sprecato il Yanma. Ok? Va bene. No, comunque davvero, nel Jap non preoccupatevi di sto livello. Faccio comunque la guida perché magari alcuni hanno difficoltà. Ma di base, leader che aumenta il ki, due blu, uno di ogni tipo, Goget amico. E siete tranquilli. Poi, avete Ultimate Gohan, avete Gogetta magari, fate ancora meno problemi. Non dovrete stare a impazzire. Ma anche senza, abbastanza tranquilli vincete. Gli shottate, a differenza che nell'altro video in cui ci metto di più, il Gogetta amico vi permette di shottare abbastanza facilmente sti nemicetti. Purtroppo, mi sto pare, è stato sprecato lo Yanma, era meglio non usarlo, che mi aumentava i danni. Però, vabbè, direi che muore Cooler. Muore Cooler per il semplice fatto, così facendo poi vado a ricevere meno danni. Non c'è qualche strana idea che mi è venuta. No, ricevo meno danni, quindi muore Cooler. Muore Freezer? Non credo. Non credo muoia. Avrei potuto fare, forse muoio io. Potrei aver appena fatto la cazzata e morire. Potrei aver appena fatto la cazzata e morire. In quel caso Resetto. Non lo so. Perché mi sento di aver fatto la cazzata. Se quel Freezer è stronzo come si deve, mi lancia la special, Goku Kaioken, faccio una brutta fine. Non ho giocato molto saggiamente. Che crepavi era abbastanza sicuro. Qua i danni non dovrebbero esistere, praticamente. Infatti, infatti, 37.000, mi sa proprio che se mi lancia la spesa, qua mi ammazza. Che fa 10.020. Oddio, potrei sciottarlo, ma i miei dubbi. I miei dubbi di riuscire a sciottarlo. Oddio, mai dire mai. Mai dire mai. Nonostante venga dimezzato o ridotto del 0.75. Cioè del 0.25. Penso il fatto sempre che lui è super contro extreme. Posso vedere la freccia. Quanto va giù. No, mi dà il pugnetti normale. Ok, ok. Mi fa tanti danni, ma niente di preoccupante. Eccoci. La Freezer ormai non esiste, praticamente. La Freezer è un'illusione. Anche Aci è un'illusione, tranquilli. Lancia la special Goku. Forse non lo ammazza, ma ci manca poco. Lancia la special Vegeta. Qui, uno slag di sicuro. Tanto. Non penso che cambi molto. Mi rifullo, così sono pronto a beccarmi i danni. Uso i dende solo perché è estremamente più dende che seno, non so. Un Farming Digon è stato snervante. Eccoci qua. Goku, lancia la nostra cara, ma hanno trovato un altro di Goku. Bello vedere come un PG che vuoi fermamente nell'altro accanto non esco. Vabbè, a sto giro ci sta. Non mi usciva un cavolo, giusto accanto da una vita. Quattro SSR di cui un Goku, vabbè. Trovate tre SSR di cui una buonissima. Il Go anche diventa LR. Uno medio buono, il Gohan al futuro, che sto rivalutando. E una, non è anche allenata ancora, il Trunks compato fisico, però. Tre SSR, andiamoli a buttare. Quattro con il Super Saiyan 3, però. Lo avevo già. Lago, fai danni, spero mi faccia un po' di danni. Ok, mi van bene i danni. Perché voglio danni? Perché al protuno Gohan. Gohan si pompa abbastanza, se mi fa danno. Non ho portato l'altro Gohan perché ce l'ho ancora a Wear. Neanche a Wear, mi mancano le medaglie. Cioè, le vere medaglie difficili sono quelle in mezzo, quelle che ho bisogno di 20 per di ognuna. Sono le medaglie peggiori a trovare. Sono un inferno. Comunque, fase 1 finita. Andiamo alla fase 2. Mi divertirò. Mi divertirò alla fase 2. Un po' come assicuro, vabbè, tanto qua. Allora, mi ricarico di un po' di accerti. Fase 2 sarà divertente vedere A5 in questa nuova versione. Quanto regge, se regge, se non regge. Ho il terrore, però, che al secondo punto dovrò usare il GhostHash. Perché, ok, il primo dato lo prendo, lo incasso. Il problema è il secondo, il terrore di non riuscire a leggerlo. A reggerlo, scusate. Temo di non riuscire a reggerlo, perché dovrebbe shottarmi. Sì, a prescindere, ragazzi, anche se siete nel JAP, lui shotta. Se non colpisce una GL, lui con la special shotta. C'è poco da farci. Non c'è Nino Nu che tenga, lui con la special vi shotta. Tra l'altro non ci sono modi per impedirlo che shotti. Quindi è abbastanza comica la cosa. Se non avete una gele con cui pararvi, non siete messi bene, ve lo dico. Che dolore, dovrò utilizzare questi rossi, che dolore. Vabbè, Gogeta dovrebbe avere comunque abbastanza, va per lanciare la spesa al prossimo, se io ce la so. Vediamo un pochino quanti danni gli fa questo. Se la vita gli scende abbastanza, è vinta se non attacca per primo. Dovrebbe essere vinta. Poi sono con special shotta di Gogeta. Con doppio Gogeta, non state neanche a parlare. Gli fate una caterba di danni, a prescindere con qualsiasi cosa. Che vi chiede pietà, viene là e vi chiede pietà. Pietà. Questo evento è di sicuro molto... Forse non ci arriva neanche Gogeta. Continua così. Ma non, beh, lui è ancora debole. Non ha ancora iniziato a lanciare il camionale, quindi a Gogeta ci arriva. Però, farvi capire. La difficoltà rimane, come anche per il Goba, non venire shottato. Un pochino di cura, non ricevere troppi danni e non venire shottato. Attaccato, quindi questo turno qua lancia la special di sicuro. Ha perso. Si capisce ormai se vince o perde. Si attacca per primo a Speranza. Non attaccando per primo si becca due speciali in faccia di cui quella di Gogeta e se a sei. Mi dispiace. È stato bello. Alla prossima. Questa era la guida per lo stage 20. Come vedete, ormai nel JRP è abbastanza semplice. Cambia poco se avete un leader il K2 al posto di uno K3 alla fin fine. Se fate linkare bene i PG con anche quelli gratuiti, quindi non ci sono scusanti per dire non ho PG per linkare. Il GON è gratuito. Certo se mi dice non ho il GON, KU, KAYO. Siamo nel JAP, dai. Il PUL che c'è adesso danno SSR come se piovesse. Se mi sono scusate 4 a me, sto a casa che è una sfiga della madonna, che i conigli non mi aiutano. Ho anche troppato lui. Vado a un commento di la special. L'anari su di lui arriverà lunedì. Quindi non è sto gran PG. Non è sto gran PG. Non sprecherò il tempo a farmarlo. Piuttosto farmerò qualche medaglietta. Per questo comunque vi ringrazio per avermi seguito. Questo era il video. La guida molto facile. Ora vado a girarmi ancora per il 22 e il 23. I stage intendo. Vi ringrazio e alla prossima. Vi ricordo il link in descrizione a tutti gli altri video. Man mano che escono verranno aggiornati. e ai vari gruppi e pagine. Alla prossima. 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 Alla prossima.